Le Marche cercano di restare aggrappate alla zona gialla. Nonostante la situazione epidemiologica non sia allarmante, si attende per domani il verdetto sulla fascia di colore. A preoccupare è il diffondersi della variante inglese, in particolare nella provincia di Ancona, già blindata da Acquaroli. L'ordinanza firmata dal governatore scadrà alle ore 24 di sabato per far coincidere il termine del provvedimento con l'eventuale emissione di nuove ordinanze del Ministero della Salute. Obiettivo diminuire gli spostamenti delle persone e limitare così la circolazione del virus. Il monitoraggio effettuato costantemente dovrà poi stabilire se saranno necessari ulteriori provvedimenti o se la situazione andrà a migliorare. Per il presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini ha una sua logica la proposta del dottor Luigi Coppari, coordinatore USCA, di dirottare i vaccini nelle zone maggiormente colpite come l'Anconetano, stessa provincia in Italia per trend in aumento. È ovvio, commenta Latini, che una scelta del genere e del tutto in via temporanea avrebbe la caratteristica dell'emergenza e il compito di arginare l'espandersi di focolai sempre più pericolosi per tutta la comunità. Quindi il concetto non sarebbe quello di togliere a qualcuno per dare ad altri, ma di consentire una condizione di riequilibrio sul territorio regionale sia pure nella complessità gestionale dell'epidemia. Dal quadro del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe emerge che tra il 10 e il 16 febbraio, nelle Marche, è peggiorato rispetto alla settimana precedente l'indicatore dei casi positivi al virus per 100.000 abitanti. Inoltre resta sopra soglia la saturazione dei posti in area medica e in terapia intensiva. Secondo i dati della Fondazione, nella nostra regione la vaccinazione finora è andata al 70% al personale sanitario, all'8% agli ospiti di RSA e al 22% a personale non sanitario. A zero la casella degli over 80. Nella regione la vaccinazione su questa fascia di popolazione inizierà sabato 20 febbraio. Le Marche, fa sapere Gimbe, sono al quindicesimo posto in Italia nella classifica che comprende regioni e province autonome per percentuale di popolazione sottoposta a completo ciclo vaccinale anti-covid. L'1,86% contro il 2,18% di media nazionale. Inoltre, in base al bollettino giornaliero del Gores, nell'ultima giornata sono stati registrati 532 positivi al coronavirus. Quasi la metà in provincia di Ancona, 82 invece in quella di Pesaro Urbino. Cala il numero di pazienti ricoverati negli ospedali, meno 13 rispetto a ieri. I degenti in terapia intensiva sono 79, mentre quelli in semi intensiva 151. Nell'attesa di capire quale sarà il futuro della regione, Acquaroli domani avrà un nuovo confronto con i sindaci per valutare la situazione. Al momento ci sono alcuni territori pressoché da zona bianca come Fermo ed Ascoli in cui si stanno registrando dei dati incoraggianti. Ma ciò potrebbe non bastare per farci rimanere in zona gialla. Domani la decisione che arriverà da Roma.